Siamo in collaborazione con l'Alto Volley, siamo sponsor ufficiali ed è un modo per premiare lo sport, la lealtà, il coraggio che queste ragazze hanno nell'affrontare diverse sfide, anche perché i nostri titolari, i fratelli Vitale, è una vita che accettano sfide e una dopo l'altra cercano di vincerle con successo, quindi noi facciamo il tifo per queste ragazze, per questa squadra e ci auguriamo che abbiano un successo dopo l'altro, così come hanno fatto i titolari fin da ragazzi. Ci stiamo organizzando per creare un locale dove tutti possano ballare e dove possano condividere un ottimo servizio di ricettività, oltre all'ospitalità che offriamo tramite piano bar, servizio messaggistica, radio privata, abbiamo un servizio pasticceria che è fatto da uno dei fratelli Vitale, che sono tutti dolci artigianali, oltre ad avere, per così dire, contribuito a sanare un po' quello che sono delle realtà oggi, come oggi, un pochino dure sul nostro territorio, oltre a dare serietà, impegno, dedizione a quello che è il lavoro, offriamo un ambiente pulito, sano, dove i nostri giovani possono stare tranquilli, possono fare amicizia, possono scambiarsi quelle culture che loro per tanto tempo magari non hanno potuto fare per le varie vicissitudini che abbiamo passato sul nostro territorio. Siamo sul Viale Kennedy, 94, ad avversario. Siamo sul Viale della Cari amici di Pupia, siamo in compagnia con l'ultimo acquista dell'Alpo Volley Aversa, Rossella Verde. I tuoi obiettivi di quest'anno? Io sono felicissima di aver sposato questo progetto quest'anno e spero il meglio per noi, insomma. E vogliamo sapere la tua carriera professionale che ti ha portato fino ad oggi? Sì, vabbè, carriera è un parolone, però ho avuto la fortuna di giocare due anni con il New Volley di Gricignano, di cui un anno abbiamo vinto il campionato di B2 salendo in B1. E poi sono stata a Pozzuoli in B2 e quest'anno appunto ho sposato questo progetto dell'Alpo Volley. Alpo Volley Aversa, pallavoliste brave e belle! So che abbiamo chiesto, che solo era qualcosa di casuale, una notte e non più. Baby, scolpami l'attrevimento, mi piace tutto il tuo corpo. Stasera c'è la presentazione della squadra Alpo Volley Aversa, partecipante al campionato di Serie C di Volley femminile. Siamo qui al Pink House, che è il nostro sponsor, uno dei nostri sponsor, e stasera presentiamo a tutta la cittadinanza la squadra di pallavolo. È già tutto pronto per uno spettacolo di presentazione, verranno presentate tutti i dirigenti, tutte le atlete, il settore giovanile, e poi ci sarà una festa, un buffet per tutti quanti. È una serata dovuta perché la squadra venga riconosciuta anche dal pubblico avversano, che speriamo ci segua numerosi quest'anno. Stasera presenteremo la squadra, presenteremo gli sponsor, faremo una breve storia della nostra società sportiva, i nostri obiettivi, quelli raggiunti e quelli che dovremo ancora centrare, e tutta la nostra attività, come si svolge sul territorio e nell'ambito dei territori limitrofi. È una squadra all'altezza della situazione che non ci deluderà neanche quest'anno. Partiamo con il numero uno, l'ultima riva a Aspe. Nel ruolo di panneggiatrice, 15 anni, 1,67 m, Miriam Tuffo. L'americano si fa questo. Numero due, nel ruolo di panneggiatrice, 20 anni, 1,62 m. Confermata dall'anno scorso, signori, Grelia Modicella. 27 anni, picciarete. 27 anni, 1,62 m. Confermata anche lei, Angela Ianniello. Numero quattro, ruolo di schiacciatrice. Qui ci vuole un grande applauso perché l'anno scorso ha subito un grave infortunio ai legamenti. Ha ripreso ed è tornata in squadra. 20 anni, 1,75 m. Ilaria Prisometto. Numero cinque, nel ruolo di schiacciatrice opposto, però in pratica lei fa un ruolo di tutto questo. Giustamente il problema. 27 anni, pure lei non è che sia tanto bufone. 1,78 m. Proveniente dallo sporto alla versa, Fabiana DiCaprio. Numero sei, nel ruolo di centrale, 15 anni. 15 anni, fammelo dare. 15 anni era tanto. 15 anni, 1,80 m. Nel ruolo di centrale, Miriam Vicillo. Numero nove, schiacciatrice. 19 anni, 1,73 m. L'anno scorso è un imprestito dal casetta volley. Quest'anno l'alto volley l'ha comprata. Quindi è nostra, signori, Marina Antonelli. Numero sette, centrale, 17 anni, 1,85 m. E anche lei, comprata quest'anno dal casetta volley, Ilaria Rossini. E adesso, numero 11, centrale, 30 anni, che sopravvi la pensione. 30 anni, 1,75 m, confermata c'era anche l'anno scorso, Francesca Della Volpe. Una scommessa dell'alto volley. Abbiamo investito in pratica tutto, perché le abbiamo, in pratica, consegnato alla cabina di regia della squadra. Numero 12, palleggiatrice, 15 anni, 1,65 m. Roberta Sagiocchi. Numero 13, centrale, se ve la trovate davanti non la fate arrabbiare, perché di piccia non mette in grande. 30 anni anche lei, 1,82 m, comprata dalla megaride Napoli, signori Valentina Borrelli. Non mi dico più che sta bene. E giustamente per migliorarci abbiamo bisogno anche di lei. Numero 16, schiacciatrice, 22 anni, proveniente dalla Corpora Griscignano, squadra di A2. E ce la siamo presa noi per la squadra di Serie C, schiacciatrice Rossella Ferde. 29 anni, 1,79 m, capitano in campo, perché poi dopo mi spiego il perché. Un grande applauso Angela Melozzi. Numero 18, libero. Lei non può essere il capitano perché nelle regole della palla a volo il libero non può essere il capitano. Quindi Angela è il capitano in campo, ma lei è il capitano della squadra. Un cognome molto pesante, come se nel calcio uno che si chiama Cannavaro, Invece della palla a volo noi abbiamo una canzanella e lei è Flora Canzanella in campo in mezzo. Ci sono le ragazze che rappresenteranno l'alzbolle nel campionato di Serie C. Un grande bocca al lupo a tutti i partiti. Attrajdare! E la vita è un buggero, io ho ho Questo portario nel pinballo, ho la b octкольку sul super. Là you, tuttigate la vita, hołyho! Oh, oh! Sì, di me nay. C'è qui a sì, la estoy chero anche, perché, non importa il motivo, non importa il por impatto, Varesti che ti che ho detto che la vita s'il carto, Cchè un grazie? C'è mua ch продano, C'è mua chunga, C shoulder di sua? C,chè 창's, C'è mua chunga, C'è mua chunga, non te fallo non teude io ti busca e non con sandy dove si and hypotheses ti tro azers don conton길 e non con tus2 domino da me la guira che entra in me io la buscare che io la encontrarai dove Park pada me Тем quale io la buscare io la encontrarai dove quiera che sei io te voy a comer conton לח sal movie n影 salmi mie egon perdono di me Allora, attenzione, attenzione, devi sapere che nella nostra squadra abbiamo una Miss. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, guarda, guarda qua, saluta solamente, saluta. Ciao a tutti. Miss? Fitness. 2013. Dove hai vinto questo concorso? A Castellammare, Miss Ondina Sport. E sorridi, saluta la telecamera. Ciao a tutti. Allora, vieni presso a me, vieni presso a me, vieni presso a me. Menozzi! Menozzi, vieni qua, 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 Menozzi. Capita, succede, buttala addosso, buttala addosso, non ti preoccupare. Allora, Menozzi, tutto quello che ha detto del mister, è vero tutto? Tutto, tutto, soprattutto che non c'ha pregi. Non c'ha pregi, grazie, molto gentile, molto gentile, mi stanno facendo il bagno, mi stanno facendo il bagno, mi stanno facendo il bagno, il bagno, mi stanno facendo il bagno. Canzanello, canzanello, vieni qua, vieni qua. Mi stanno facendo uno schifo, quello che vuoi, dici quello che vuoi. Ma questo è bellissimo, senti? Pupia, la tua informazione. Canzanello, 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 canzanello. Grazie.